Bene, signore e signori, la gara più importante è quella in costume da bagno e adesso siamo pronti ad accogliere le ragazze per questa prova conclusiva. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 15 anni anche lei di Campo Madera a Venezia a fare la scuola in Pessa dal numero 12 Carlotta Marocco sulla testa di Correzola Padua 18 anni la testa di Correzola Correo Paredici Giulia Rossetti Vintunenne commensati di Spine. Grazie per la visione! Vintunenne commensati di Sarmaglia della Battaglia. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Scembre di Tavaro Veneto. Scembre di Tavaro Veneto 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 Numero 28 Scembre di Tavaro Veneto 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 Grazie a tutti. 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 , 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 ,,, ,,,, 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 ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Gloria Allungato Sottotessa sedicenni di Gambiana 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 per Silvia Altaioma una professore sia dovuta vai per Silvia Altaioma per Silvia Altaioma i riflettori e tutte le dute si accendono sulle 48 ragazze non è un record io ho superato questo record 4 anni fa in una discoteca del 13 anno erano 54 comunque direi che 48 ragazze certamente è un numero da ricordare ma è anche un numero è anche un numero amici del pubblico e soprattutto voi ragazze è anche un numero attraverso cui la giuria ha certamente avuto delle grandissime difficoltà a decidere e a stabilire quali sono le vincitrici vincitrici che sono purtroppo solamente solamente 5 quindi vorrei invitare sul palcoscenico Svetlana Zominger Svetlana Zominger sul palcoscenico per Montesina Svetlana Zominger Svetlana Zominger Svetlana Zominger signore e signori con il titolo di Miss Canapri Moto sponsor appinato a Ducati Moto premia Svetlana Zominger lei è la numero 29 Valeria Zominger 19 anni di parosta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti